Milano è bellissima, io che mia moglie ci piace un sacco la città, abbiamo un cane piccolo che lo portiamo qua al parco, è l'ideale per noi, è l'ideale per quello che ci serve, c'è proprio tutto a Milano, se stai bene a casa, se stai bene con la famiglia, se stai bene con quello che è la città, il campo è sempre una conseguenza secondo me di come ti senti, di come puoi stare, mi piace leggere, mi piace giocare a pad, la bicicletta è un mezzo utile qua, non mi va di prendere la macchina, con la bicicletta fai molto prima, sarà stata una cosa forse estera o straniera, però mi piace così ed è più comodo, più forse il trono di spade che il signore degli anelli, però anche il signore degli anelli, tutto quello che è fantasia, dragoni, mostri, mi piace, mi fa pensare un po' a supereroi, anche la Marvel a me fa impazzire, ti porta in un'altra dimensione, in un altro pensiero, modo di pensare, di fare le cose, ed è anche una distrazione da quello che è tutta la pressione che possiamo avere noi ai giorni d'oggi, il calciatore alla fine qua in Italia è un po' visto come supereroe, specialmente per i bambini, siamo l'esempio che loro seguono, a 16 anni sei lì nel mezzo, io sono dovuto andare via e crescere subito, mi ha dato tutto quello che sono e sono contento e per fortuna che sono andato all'estero presto, perché se no sono convinto che le cose non sarebbero andate come sono. Mia mamma adesso corre ancora, mia sorella faceva salti in lungo, comunque atletica leggera, mio padre ha smesso quando ha smesso di vincere, giustamente, però sì anche lui faceva penso 200 metri e 400 metri. Di bolognese ho il piacere di mangiare o comunque di voler sempre mangiare bene, non esiste che vai in un ristorante se si mangia male o perché c'è la bella atmosfera, ci vado per mangiare bene, londinese sicuramente le spero, le buone maniere o comunque l'educazione nei confronti dei terzi, milanese ancora poco, milanese ancora troppo poco. Il football americano è uno dei miei sport preferiti per quello che c'è dedizione, allenamento, duro lavoro e qua è la firma di Odell Beckham Junior che è uno dei giocatori preferiti, soprattutto per il famoso catch che fece e questa è firmata da lui, poi c'è anche una foto da altre parti di questo catch. Ogni tanto mi metto a guardare le partite se non è troppo tardi. Grazie. Grazie.